Che la benedizione degli otto divini sia con te. Come posso aiutarmi? Mi sembra che tu abbia qualche problema. Sei qui per cercare consiglio? Coloro che recano ossequio ai santuari sono destinati a ricevere benefici dagli dèi. La natura di questi favori varia a seconda della divinità. Tu recati pure liberamente in tutti i nostri santuari. Ah, sì. Quella ospitava il santuario di Talos. Ma questo culto è stato bandito dal concordato oro bianco non molto tempo fa. Si tratta del trattato di pace che ha concluso la guerra tra gli elfi e il regno degli Aldmeri. Il regno ha riconosciuto l'eresia insita nel proclamare Talos una divinità. Talos è stato un gran duomo e un grande imperatore. Ma questo non lo rende un dio. Per quanto è in manto della tempesta lo desideri. Colui che è forte e onorevole porta sempre con sé la benedizione degli uomini. che i divini ti benedicano, ti ascoltano. I divini mi hanno salvato dalla strada e possono salvare anche te dalle tue sofferenze. Lasciaci camminare sulle orme dei divini. Come sommo sacerdote degli otto divini ti do il benvenuto. che il sapere del tuo dio ci guidi nelle incombenze quotidiane. come si accroccano. Ricordaci qual è il nostro posto, non ci dimentichiamo. Ricordaci qual è il nostro posto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa Kajiti è solo una guardia, non ha nulla da vendere. L'aria di Skyrim è così limpida che la vista spazia senza confini. Serve qualcosa? Ti do il benvenuto. Come posso aiutarti? Tutto il contrario, a dire il vero. I soldati sono tra i nostri clienti migliori, poiché offriamo merci e rifornimenti altrimenti inaccessibili. È stata un'idea di Risad venire qui ora mentre la terra è in subbuglio. Dove gli altri hanno visto soltanto pericolo, lui ha fiutato un'opportunità. Controlla pure. Spero che tornerai a fare affari da noi. Strumenti meriti. Tutto a prezzi completi. Devo tenere gli occhi aperti. Quei dannati traghi potrebbero piombare qui da un momento all'altro. Spero che tornerai a fare affari. Spero che tornerai a fare affari. Spero che tornerai a fare affari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.